Musica E' l'unico che può condurre un programma radiofonico di reggae legali su Radio 2 e anche quella deve essere una falla del sistema è un'icona di stile perché salta negli occhi essere il meglio vestito probabilmente del mondo è il cuore pulsante di Pechino Express e a parte il fatto che spende molti dei suoi soldi in certe cliniche che gli fanno mangiare del purè di la stura credo sia il migliore di tutti noi ed è il nome tutelare di Air, Costantino della Grandesca E le prese sono tutte tra l'altro ho dovuto sformiciare perché sai che siamo tra i bambini che non vorremmo esagerare posta fare al canno è un lavoro fantastico si guarda i miei secondo me è bellissimo per il video di Estebrimatico penso che sono molto contento se riusciamo a finire in Estebrimatico con la più grande quantità di rehab se no assieme hanno un uomo con le unghie più lunghe del mondo eh anch'io l'ho sempre guardato con un gusto di rispetto e orrore si grazie 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 grazie